Gianvito Casadonte, ventesima edizione del Magna Grecia Film Festival, un'edizione che si preannuncia superlativa. Una buona edizione, un grande festival anche questa ventesima edizione con grandi nomi che arriveranno in Calabria, arriveranno a Catanzaro e mi danno la gioia e la soddisfazione di vedere la mia città, la mia regione protagonista. Dal 29 luglio al 5 agosto Catanzaro diventa capitale del cinema internazionale, l'attrice premio Oscar Susan Sarandon che riceverà la colonna d'oro alla carriera e fra i nomi di spicco della Kermesse Calabrese. Ventesima edizione del Magna Grecia, la prima diciamo così mia veramente perché l'anno scorso era arrivato quando il programma era già ultimato. felicissimo di avere Susan Sarandon che è in perfetta empatia con questa amministrazione, essendo una paladina dei diritti civili. All'organizzatore ho fatto una sola richiesta, cioè di fare quello che voleva. Il festival avrà anche quest'anno prestigiosi ospiti, dal poliedrico attore e regista Paolo Ruffini all'attrice e regista Pilar Fogliati, da Giovanni Veronesi a Matteo Garrone, da Maurizio Onichetti a Rosio Mugnoz Morales, senza tralasciare la cantautrice, scrittrice, levante, limitatore e comico Baldo Pantani, nonché le attrici Paola Minaccioni e Monica Valerini che presenteranno in anteprima il trailer del film Una commedia pericolosa. Non è un festival solamente per il cinema, è un festival veramente che ha bassi culturali. Il nome d'altronde radice lunga, Magna Grecia, dove era la prosperità e lo splendore della Magna Grecia, tradotto appunto nella cinematografia attuale e contemporanea.